Liberi.tv, Riccardo Cristiano, siamo a decollatura in compagnia del candidato a sindaco per la lista più decollatura, il professor Giuseppe Mussolino. Io lo ringrazio per aver accettato di fare lì questa intervista e gli chiedo qual è la motivazione che lo ha spinto a candidarsi per rappresentare la città di decollatura a queste elezioni. Allora io ho deciso di candidarmi perché ho un impegno lunghissimo nell'attività culturale a decollatura, sono stato anche assessore lavori pubblici e urbanistiche nel comune di decollatura dal 1995 al 1999. Poi dopo anche questa esperienza ho continuato sempre in tutte le posizioni che potevo occupare a promuovere il territorio, a studiarlo perché ho scritto anche due volumi sulla storia di decollatura, diverse altre pubblicazioni su riviste. Quindi il mio interesse è l'amore per il mio territorio che ho cercato di valorizzare in tutti i modi scoprendo anche aspetti finora inediti che mi hanno sempre più convinto della grandezza del posto in cui abito, della sua ricchezza della storia, delle ricchezza ambientali che ha e quindi il mio impegno è stato quello ed è ancora quello di valorizzare il mio comune. Quindi si è data l'occasione, si è data l'opportunità di poter capeggiare questa lista, mi hanno indicato come candidato sindaco, io ho messo a disposizione la mia persona, anche se il momento economico non è dei più facili in Italia, ma ancora di più a decollatura, ci sono problemi di tipo economico, ma insomma non mi sono tirato indietro perché con l'aiuto anche dei candidati consiglieri, ma io credo anche di tutta la popolazione, del Consiglio Comunale, così come si verrà a configurare, qualunque sarà la posizione che andrò a occupare, di lavorare per la ripresa di decollatura. Ecco, questo è il mio impegno. Quindi, professore, sappiamo già che avete una buona esperienza a livello politico, ma anche a livello culturale, in quanto siete da anni impegnato, ma nello specifico, nel programma della lista più decollatura, quali sono i punti salienti, quelli che allo spettatore possono interessare, soprattutto al decollatorese che magari si vede tutti i giorni combattere con problemi di ordinaria amministrazione? Allora, il problema principale che abbiamo, come dicevo, è quello della crisi economica e noi cercheremo di trovare delle strade per fronteggiare questa crisi. Innanzitutto ci sarà bisogno di un'opera di risanamento, perché ci sono alcune centinaia di migliaia di euro di deficit, dalle quali dovremo rientrare con un piano che probabilmente occuperà i prossimi 10 o 20 anni, ma la situazione economica di decollatura è fondamentalmente sana. I cittadini di decollatura non sono evasori, non sono persone che non vogliono pagare, vogliono pagare i tributi. Noi faremo in modo di metterli in condizione, di aiutarli anche in questo compito. Abbiamo visto tante volte situazioni di disagio da cui le persone sono uscite con malvolentieri, con gravi problemi, perché ci sono stati pignoramenti, ci sono stati provvedimenti di questo genere. Noi cercheremo di accompagnare le persone che non possono pagare con un metodo della conciliazione, della ratiazione. Quindi il primo problema è risolvere quello economico. Uno dei modi per abbassare anche le quote che devono pagare i cittadini per i servizi è quello di ricorrere a quello che offre la tecnologia oggi. Per quanto riguarda le spese che si sostengono per l'illuminazione pubblica, che sono enormi. Noi abbiamo un territorio vastissimo, abbiamo forse 1200 punti luce che divorono una quantità enorme di energia. Sì, noi faremo ricorso a un sistema fotovoltaico che dovrebbe consentirci di compensare le spese per l'energia elettrica con lo scambio che si farà con l'Enel. Stessa cosa faremo con il depuratore, che è un punto in cui si consumano grandissime quantità di energia. Stessa cosa faremo ancora con i servizi dei rifiuti, cercando di diminuire al massimo la quota che conferiamo in discarica, addirittura cercando di trasformare in risorsa. Vendere la frazione differenziata di plastica, vetro, metalli, tutto quello che si può recuperare deve essere trasformato in risorsa. Facendo in questo modo abbasseremo le quote che vanno a carico dei cittadini e quindi in questo modo andremo incontro anche alla crisi. Poi cercheremo di migliorare tutti quanti i servizi, il servizio mensa per le scuole, il servizio di raccolta dei rifiuti, di cui già ho detto, anche la pulizia del paese, in modo tale che anche di presentare un paese più efficiente, quindi con il miglioramento dei servizi, ma anche più bello. Quello che ci viene chiesto da tutti i cittadini, di cui in questi giorni ne sto incontrando molti, a parte i problemi personali, di crisi economica, ma quello che più non riescono a sopportare è il senso del disordine, il senso del degrado che si ritrova in tante parti, dal parco comunale che ormai è completamente invaso dalle erbacce alla poca cura che c'è nello sfalcio dell'erba lungo tutte le nostre strade, le buche, le famose buche che occorrerà a porre rimedio perché è veramente un problema grave, danno un senso di degrado, di mancata cura, quindi io voglio puntare a questo tipo di miglioramento per andare incontro alle esigenze dei cittadini. Poi c'è tutto il programma di valorizzazione delle imprese, della produzione agricola, delle produzioni del commercio che sono tradizionalmente i nostri punti di forza. Qui ci troviamo in un villaggio che negli anni 60 era il fiore all'occhiello della Calabria, qui venivano turisti da tutte le parti della Calabria e d'Italia e come si vede lo è ancora, un punto bellissimo che può portare una grande risorsa a decoratura come quello del turismo. Noi abbiamo moltissimi ristoranti, alberghi, case che vengono affittate per villeggiature. Ecco, questo deve passare da un fatto privato, singolo, che hanno le singole attività commerciali che deve diventare sistema, quindi pubblicizzare le nostre iniziative sulle televisioni, sul web, ormai ci sono tanti mezzi per poter diffondere. Quindi è un paese in cui è anche più bello passare il tempo libero per le passeggiate, per le altre cose. Noi abbiamo delle piazze che sono poco fornite di punti di sosta, di ombreggiatura, di panchine, di tutto quello che trasforma un paese in un paese bello da visitare. Ecco, questo è il programma anche per risollevare l'economia. Perfetto, abbiamo detto veramente tutto. Riccardo Cristiano, Liberi TV, Decollatura. Riccardo Cristiano, Liberi TV, Decollatura.